PH veloce senza salti. Alterniamo un esercizio per la parte superiore e un esercizio per la parte inferiore del corpo. Iniziamo! Ok, iniziamo. Due distensioni in avanti e due circonduzioni in avanti. Vai! Scaldiamo tutto il corpo prima di iniziare questo super workout. Vamos! Mi raccomando, non saltare mai il riscaldamento. Fondamentale. Ancora 3, 2, 1. Discesa frontale alternata. Prima da una parte e poi dall'altra. Vai! Respiro. Posso piegare leggermente il ginocchio. Non forzare il movimento. Siamo in modalità riscaldamento. Vai! 3, 2, 1. Spinta su gamba sinistra. Mezzo squat e spinta gamba sinistra. Vai! Respiro. Ancora 10 secondi e poi cambiamo. Andiamo sulla destra. Vamos! Vai! 5, 4, 3, 2, 1. Destra dall'altra parte. Respiro. Spinta gamba destra. Esercizio successivo. Slanci gluteo gamba sinistra. Vai! Sali. Respirazione. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! Slancio glutei. Gamba sinistra. Piego leggermente la gamba frontale per non scaricare il peso sulla schiena. Vai! e allungo dietro per l'attivazione del gluteo. E poi cambiamo gamba. 3, 2, 1. Cambio. Gamba destra. Vai con lo slancio. Pam! 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 Respiro. Equilibrio. Esercizio successivo. Skip e rotazione oraria. Ancora. Vai! Ancora 3, 2, 1. Cambio. Skip e rotazione oraria. Rotazione in avanti. Mantengo lo skip sulla parte bassa. Rotazione sulla parte alta. Vai! Esercizio successivo. Step touch. Respiro. Ancora 3, 2, 1. Vai! Step touch. Mi sposto a destra e sinistra. Respirazione naso e bocca. Ci prepariamo all'esercizio successivo. Sempre skip ma la rotazione è anti oraria. Vamos! Respiro. Spostamento. Vai! Step touch. 3, 2, 1. Cambio. Skip e rotazione anti oraria. Testa dritta. Vado con lo skip. Rotazione anti oraria. Quindi rotazione dietro. Esercizio successivo. Skip incrociato. 3, 2, 1. Vai! Skip incrociato. Salgo bene. Tocco. Salgo. Skip incrociato. Vado con la gamba in salita verso il petto. Vai! Pam! Pam! 3, 2, 1. Da qua camminata laterale e salgo con il ginocchio. Vai! Passo laterale. Passo laterale e salgo con il ginocchio. Passo laterale e salgo con il ginocchio. Coordina il movimento. Respira. Vai! Esercizio successivo. Mezzo squat. Ancora 3, 2, 1. Mezzo squat. Allargo le punte. Uno squat leggermente accennato. Attiviamo gambe e glutei. Ancora. esercizio successivo. Pugno destro. Calciata sinistra. Pugno sinistro. Calciata destra. Vai! 3, 2, 1. Vai! Pam! Pam! Alterno bene i due movimenti. Testa dritta. Addome forte. Respiro. Vai! Vai! Ancora. Calciata e pugno. Calciata e pugno. Vai! Respirazione. 3, 2, 1. Recupero attivo. Prendiamo i nostri pesetti e iniziamo subito con bicipiti in discesa fino al gomito. Partiamo dall'altro. Pieghiamo le gambe. 3, 2, 1. Vai! Alternato. Prima da una parte e poi dall'altra. Utilizzo un peso che mi permette di fare l'esercizio curando la tecnica. Prima da una parte e poi dall'altra. Scendo fino al gomito e ritorno. 3, 2, 1. Recupero attivo. Appoggio i pesi. E ci prepariamo per ginocchio su. Lavoriamo sulla sinistra. 3, 2, 1. Vai! Salgo. Ginocchio. Lavoriamo prima da una parte solo con una gamba. Vai! Vai! 10 secondi. respirazione. Respirazione. Sincronizzo il movimento braccia e gambe. 3, 2, 1. Recupero. Ancora pesetti. Ora abbiamo bicipiti alternati partendo da basso fino al gomito. 3, 2, 1. Salgo fino al gomito e ritorno. respiro. Prima da una parte e poi dall'altra. Prima da una parte e poi dall'altra. Movimento è controllato. Testa dritta. Addome forte. 3, 2, 1. Appoggio il peso e abbiamo ginocchio su sull'altra gamba. posizione. 3, 2, 1. Vai! Salgo bene con il ginocchio. Lavoriamo solo su una gamba. Respirazione. Alterno bene il movimento. Vai! Vai! Respiro. Ancora qualche secondo. 3, 2, 1. recupero attivo. Bicipiti alternati. Piego leggermente le gambe. 3, 2, 1. Vai! Prima da una parte e poi dall'altra. Respiro. Attiviamo i bicipiti. Testa dritta. Piego leggermente le gambe. Vai! Ancora prima da una parte e poi dall'altra. Qualche secondo. 3, 2, 1. Recupero attivo. Appoggiamo i pesetti e ci prepariamo lo squat. Squat completo. 3, 2, 1. Vai! Squat completo. Il ginocchio segue la linea del piede. Vai! attiviamo anche le braccia. Squat completo. Gluteo in linea col ginocchio. Ancora qualche secondo. Vai! 3, 2, 1. Riprendiamo i pesetti. Vai! Ci prepariamo alle spinte in alto. Piego le gambe. 3, 2, 1. Vai! Spinte in alto. Controllo il movimento. Scendo. Altezza. Gomito, spalle. E salgo. Testa dritta. Controllo il movimento. Vai! Ancora qualche secondo. 3, 2, 1. Recupero attivo. appoggio il peso. Appoggio il peso. Ci prepariamo alla fondo indietro. Gamba destra. 3, 2, 1. Vai! Affondo indietro. Lavoriamo solo sulla gamba destra. Vai! Respiro. Controllo il movimento. Non mi fermo. attiviamo. Attiviamo gambe glutei. Vai! Ancora. 3, 2, 1. Recupero attivo. Ci prepariamo i pugni veloci frontali. Quindi scendiamo in posizione mezzo squat. 3, 2, 1. Vai! Pugni frontali. Addome forte. Mantengo la posizione. E vado con i pugni veloci frontali. Vai! Vamos! Non ti fermare. Velocità. Mantieni il ritmo. 3, 2, 1. Recupero attivo. Ci prepariamo per la fondo indietro sulla gamba sinistra. 3, 2, 1. Vai! Gamba sinistra. Controllo il movimento. vai! Affondo indietro. Attiviamo gambe e glutei. Vai! Ancora qualche secondo. Respira. 3, 2, 1. Recupero attivo. pesetti. Bicipiti. Spinte in alto. 3, 2, 1. Bicipiti. Rotazione. E vai con le spinte. piego leggermente le gambe per non perdere l'equilibrio e non scaricare sulla schiena. Vai! Ancora. Spinte. Bicipiti. 3, 2, 1. Recupero attivo. Ora abbiamo l'affondo indietro alternato. destra e sinistra. 3, 2, 1. Vai! Affondo alternato. Prima a destra e poi a sinistra. Appoggio bene il piede. Non perdo l'equilibrio. Affondo indietro. Vai! Prima a destra e poi a sinistra. alterniamo. Ancora. Respiro. 3, 2, 1. Recupero attivo. bicipiti. Martello senza rotazione. Andiamo in posizione. Vai! Senza rotazione. blocco il gomito vicino al corpo e vado con il martello alternato. Vai! Prima da una parte e poi dall'altra. respiro. 3, 2, 1. Recupero attivo. Ora ci prepariamo allo squat pugno destro, squat pugno sinistro. 3, 2, 1. Scendo in squat. Pugno da una parte e pugno dall'altra. Lo squat è lento, controllato. allargo bene le gambe. Allargo le punte. Vai! Attiviamo gambe glutei. Ancora. Ancora. Ancora 3, 2, 1. Ci prepariamo al pugno incrociato. A destra e a sinistra. 3, 2, 1. Vai! Pugno incrociato. Vamos! Lavoro sulle gambe. Addome contratto. Respirazione. Velocità, agilità. Bruciamo calorie. Vai! Vamos! Ancora. Ancora. 3, 2, 1. Recupero attivo. Ci prepariamo al mezzo squat più calf per attivare anche i bolbacci. 3, 2, 1. Vai! Mezzo squat. Salgo calf. Mezzo squat. Salgo calf. Respiro. Testa dritta. Vai! Mezzo squat. Salgo calf. Ancora. 3, 2, 1. Recupero attivo. Tricipiti. Un braccio. Lavoriamo solo su un braccio. Posizione. 3, 2, 1. Blocco il gomito e vado dietro col braccio. Vai! Respiro. Utilizzo un peso che mi permette di fare l'esercizio senza sporcare la tecnica. 3, 2, 1. Appoggio il peso. Mezzo squat. Più calciata. Vai! Mezzo squat. Più calciata. Vai! Controllo il movimento. Respiro. Vai! Vai! Attiviamo gambe. Glutei. Respiro. Ancora qualche secondo. Vai! 3, 2, 1. Recupero attivo. tricipite sull'altro braccio. Andiamo in posizione. 3, 2, 1. Blocco il gomito e vado dietro col braccio. Pam! Pam! Attiviamo il tricipite. Vai! 10 secondi. Resisti. Fino alla fine. Respirazione. Vai! Vai! 3, 2, 1. Recupero attivo. Ci prepariamo a due passi laterali su mezzo squat. e poi andiamo sulle punte. Posizione. Vai! Due passi e andiamo sulle punte. Due passi e andiamo sulle punte. Vai! Alzo le braccia. Salgo sulle punte. Vai! Salgo sulle punte. Ancora. 3, 2, 1. Recupero attivo. Ora ci prepariamo alla fase di stretching e defaticamento. Approfitto per respirare. Naso e bocca. Ci fermiamo. Allargo le gambe. 3, 2, 1. Salgo con un braccio. L'altro braccio va in assistenza. Torsione laterale. Mantengo la posizione senza forzare. Respiro. E poi cambiamo lato. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Salgo. Assistenza. Torsione. Mantengo la posizione. Respiro. Esercizio successivo. Stretching del tricipite. 3, 2, 1. Ok. Cambio braccio. Vado dietro. Assistenza sul gomito. Mantengo la posizione senza forzare. E respiro. 3, 2, 1. Lascio. Dall'altra parte vai. Stretching del tricipite. Mantengo la posizione senza forzare. Respiro. Testa dritta. Ancora 3, 2, 1. Mobilizzazione della colonna. Vado in posizione in arco e in curvo. In arco e in curvo. Vai. E respiro. Ancora. 3, 2, 1. Da questa posizione mani incrociate senza forzare il movimento. Mantengo lo stretching e respiro. Mantengo la posizione. Ci prepariamo per l'allungamento laterale. 3, 2, 1. Lascio. Scendo piano piano da un lato. Mantengo la posizione. Respiro. Andiamo a fare un bello stretching completo per tutto il corpo. Sia la parte alta che la parte bassa. 3, 2, 1. Mi aiuto con le mani. Sposto lentamente dall'altra parte. Mantengo la posizione. Se riesco dopo la punta, la caviglia o rimango in posizione. È sempre un esercizio di stretching. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Rissaliamo. Il tuo allenamento è finito. Ci vediamo al prossimo allenamento. Sempre in forma con FixFit. Vamos. Sì, sì, sì.